Ambasciatore nel mondo dell'ospitalità d'eccellenza ed appassionato testimone della cultura veneta. Con questa motivazione alle sale a polline del Teatro La Finice di Venezia, la Camera di Commercio ha assegnato un riconoscimento ad Arrigo Cipriani, pochi giorni dopo il compleanno dell'imprenditore veneziano, che il 23 aprile ha superato il traguardo dei 90 anni. Ho avuto un messaggio incredibile quando ho aperto il primo ristorante a New York, si chiama Arrigo Cipriani, abbiamo fatto il primo giorno 400 coperti. Ma è a Venezia quando è che si è distinto dagli altri? Voglio dire, lei ha poi ricordato che i locali che erano sorti nel posto in cui si trova adesso a Arrigo Cipriani erano falliti tutti. Sì, lo so, è continuare a fare le cose delle quali si crede e soprattutto, come dicevo prima, fare le cose in funzione della non imposizione ai clienti. Se lei guarda quello che sta succedendo adesso negli ristoranti, si entra dentro e c'è un menù degustazione. Non c'è nessuna voglia di prendere il menù, voglio prendere quello che voglio io. Ecco, tutto là. Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Venezia, Erovigo Massimo Zanon, Arrigo Cipriani rappresenta un simbolo di come un'impresa di famiglia possa innovarsi e crescere coltivando con intelligenza e passione le proprie radici. Ci sono delle persone che hanno un'età molto avanzata e ancora tanti anni da dare dei spunti e delle voglie di fare. Ecco, se le nuove generazioni volessero capire che l'Italia ha un futuro, il futuro lo si può anche trovare sulla voglia di impegnarsi. Arrigo Cipriani è oggi a capo di un gruppo che conta 27 ristoranti con 4.000 dipendenti. Per il Vice Presidente Vicario della Conf Commercio Regionale, Paolo Doglioni, parlarci è come salire sul campanile di Cento. Salendo Goethe, questo campanile, diceva io devo andare in un posto alto per vedere cosa c'è sotto. È la stessa cosa che io faccio con Arrigo Cipriani. Lo chiamo e lui mi fa vedere che cosa c'è sotto.